Vista oggi è bellissima, dopo anni che ne siamo stati privati sembra un miracolo, è veramente bello, c'è un clima anche gioioso, allegro, di bambini che giocano, ragazzini che sedano sulle banchine, famiglie che fanno il picnic. Beh, finalmente sono tornati a una dignità, sono molto contento, i percorsi riprendono quelli antichi del giardino ottocentesco. I giardini sono bellissimi, speriamo che durino nel tempo, questo ci auguriamo. Penso che sono molto belli, abito nel quartiere quindi li guardo da fuori da quando hanno tolto la protezione dalle ringhiere e mi sembra una cosa bellissima che finalmente abbiano riaperto, esteticamente sono molto belli e sono felice. Sono molto felice in primo luogo perché personalmente sono molto affezionato alla Porta Alchemica, che è un monumento che è stato per tanti anni trascurato qui a Roma, invece è un monumento importantissimo. Sono felice perché i bambini possono almeno uscire e godere di un po' di verde e hanno fatto un ottimo lavoro a questo mio pensiero. Siamo venuti alle otto e mezza e mi sembra una cosa sensazionale, anche mi sembra che cambierà il pubblico di quello che c'era prima, perché guarda ci sono tanti ragazzini e bambini. Speriamo bene, speriamo che ci sia un po' di controllo nella manutenzione, insomma le cose vanno poi seguite e bisogna lavorare in tutto questo. Per me è una realtà nuova, meravigliosa. Io ricordo quando c'erano i banchi, i banchi del mercato. È una cosa che proprio mi sembra di venire in un'altra città.